Salve e buon fine settimana a tutti, siamo giunti alla fine della seconda settimana del mese di marzo, quindi siamo già al giro di Boro, il prossimo 18 marzo, quindi avremo un'altra settimana che va dal 18 al 22 marzo, dove appunto come ben sapete a catalizzare l'attenzione da parte degli investitori e soprattutto in particolare, oltre al calendario macroeconomico, ma praticamente le notizie più importanti che vanno al di là del calendario macroeconomico, abbiamo sempre l'accordo commerciale tra Stati Uniti e la Cina che appunto è stato posticipato, c'è una proroga di 3-4 settimane, o meno dalle ultime indicazioni e poi abbiamo sempre il discorso legato alla Brexit, dove ci sono state tre votazioni, martedì, mercoledì e giovedì, dove praticamente si è scelto di alla fine, in pratica si è scelto di posticipare al momento la data di uscita, quindi dal divorzio tra la Gran Bretagna e il Regno Unito e il resto del blocco dell'Unione Europea, quindi dopo il 29 marzo. La MEI ha chiesto a meno altri tre mesi, quindi tutto molto probabilmente sarà slittato entro l'estate. Ovviamente la situazione è ancora in fase di indecisione, diciamo ancora non si riesce a capire bene, anche perché è un evento storico, la prima volta che capita che un paese membro dell'Unione Europea va ad applicare il cosiddetto tanto decantato articolo 50, quindi praticamente è una situazione dove si brancola un po' del buio. C'è una indecisione, soprattutto per quanto riguarda tra le parti, ma in particolare il Parlamento inglese, ovvero la Camera dei Comuni, che più volte hanno votato sul fronte del no, quindi ha prevalso il fronte del no in queste votazioni, soprattutto la prima votazione che hanno rigettato i nuovi accordi messi in rifatti, l'ultimo accordo fatto tra la MEI e i negoziatori dell'Unione Europea il giorno prima a Strasburgo, quindi gli ultimi dei tocchi. Bene, la situazione quindi è questa, però andiamo a vedere prima di tutto come ha chiuso la settimana, in particolare per quanto riguarda le piazze finanziarie europee che chiudono in territorio positivo, quindi con buone performance. Andiamo a vedere un po' i valori, DAX che chiude a più 0,85, poi abbiamo l'Ibex a più 1,44, il CAC di Parigi a 1,04%, FUZI Londra a più 0,60% e FUZMIM che chiude invece a più 0,80%. A catalizzare però l'attenzione, come ci ho detto prima, degli investitori, oltre al discorso Brexit abbiamo anche l'accordo commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, ma bisognerà però attendere ancora 3-4 settimane per sapere se si giungerà a una conclusione definitiva. Lo ha detto appunto anche il presidente americano Donald Trump nel corso di un intervento alla Casa Bianca aggiungendo che Pechino si sta dimostrando comunque molto responsabile e molto ragionevole. Nei giorni scorsi Trump aveva affermato che i negoziati con la Cina stanno procedendo rapidamente, ma allo stesso tempo aveva ribadito che non avrebbe firmato un accordo sconveniente per gli Stati Uniti. Intanto il segretario di Stato Stephen Munkin ha respinto l'ipotesi di un incontro questo mese tra il presidente americano e suo omologo cinese Xi Jinping. Bene, per quanto riguarda invece mi voglio soffermare di più su Piazza Affari, quindi avete visto che c'è stata anche qua una chiusura positiva. C'era ovviamente questa è la chiusura prima della decisione di Moody's sulla possibile revisione del rating sovrano italiano. Oggi Piazza Affari, quindi ieri Piazza Affari è chiuso quindi con interipoltorio positivo ad quota 21.045,41 punti. Ovviamente sul listino milanese il protagonista della giornata è stata Enio, più 0,32%, dopo aver annunciato il dividendo del 2019 e presentato il nuovo piano strategico di investimenti per 33 miliardi di euro. Bene anche il comparto bancario in primis intesa, più 1,34%, Unicredit più 0,17%, calano invece BPR meno 0,61% e Banco BPM meno 1,85%. Chiude la seduta invece a più 1,76% il titolo Leonardo promosso dagli analisti di Equitasim che hanno alzato il target price sulla società guidata da Alessandro Profumo a 12,5 euro. Poi per quanto riguarda invece l'agenda macro italiana è stata contrassegnata dai dati sull'inflazione che si sono attestati a febbraio all'1% su base annua contro lo 0,9% di gennaio e dai dati sul fatturato e ordinativi all'industria dopo la marcata flessione registrata a dicembre dello stesso anno. Tornano a crescere a gennaio grazie appunto al mercato estero. Ma è soprattutto però il dato sul debito pubblico reso noto da Banca Italia che preoccupa visto che si registra un nuovo record a gennaio, un aumento di 41,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente risultando pari a 2.358 miliardi. Andiamo adesso a vedere un po' le news che hanno caratterizzato però anche l'ultima giornata della settimana. Quindi l'ultima seduta parte con la pubblicazione del tasso di inflazione della zona euro relativa al mese di febbraio. Il dato si è attestato all'1,5% su base annua contro l'1,4% di gennaio. Si tratta della lettura finale da parte dell'Eurostat che conferma la stima preliminare. Su base mensile invece l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un più 0,3% escluso le componenti più volatili. Alimenti di energia, l'inflazione core è pari invece all'1% annuo. Calo della produzione industriale americana che nel mese di febbraio cresce dello 0,1% deludendo le attese del consenso che si aspettava un incremento dello 0,6% mese su mese. Inoltre il tasso di utilizzo degli impianti si è attestato al 78,2% anche in questo caso inferiore alle stime, al 78,7%. Infine il dato sulla produzione industriale di gennaio è stato rivisto al rialzo dal meno 0,6% al meno 0,4%. La produzione manufatturiera americana diminuisce a febbraio per il secondo mese consecutivo ponendo freno alla crescere della produzione industriale accentuando i timori di molti economisti sul rallentamento del settore. L'output dello specifico è calato dello 0,4% dello 0,4% su mese a febbraio. Sempre sul fronte macroeconomico male anche l'indice Empire State Manufacturing elaborato dalla Fed New York che è sceso a 3,7 punti a marzo da quota 8,8 di febbraio. Al di sotto del consenso degli agganalisti che si aspettava invece un incremento a 10 punti sotto indice relativo ai nuovi ordini si è attestato a 3 punti in calo rispetto a quota 7,5 di febbraio mentre quello sull'occupazione è risultato pari a 13,8 punti dai 4,1 del mese precedente. Infine il sotto indice sui prezzi è sceso a 18,1 punti da quota 22,9 di febbraio. Bene, ora andiamo a vedere un po' il calendario che è già filtrato delle notizie più importanti macroeconomiche della prossima settimana. Si parte lunedì 18, abbiamo a mezzanotte e 50 un'unica news con il saldo della bilancia commerciale del Giappone. Poi martedì 19, lunedì 30 dall'Australia per Bari dell'ultimo meeting di politica monetaria della Banca Centrale Australiana. Alle 10.30 una serie di indicazioni in arrivo dalla Gran Bretagna con l'indice dei salari medi inclusi, la variazione delle richieste di sussidio alle disoccupazioni di febbraio, il tasso di disoccupazione di gennaio. Mezz'oretta più tardi invece abbiamo l'indice ZEV su sentiment dell'economia della Germania di marzo. Mercoledì 20 alle 10.30 l'indice dei prezzi al consumo di febbraio della Gran Bretagna, alle 16.30 invece le scorte di petrolio e greggio e poi c'è un altro voto al Parlamento Britannico sull'accordo del Brexit. Quindi molto probabilmente se segue un po' la scena degli altri voti dovrebbe essere intorno alle 19.20 ora italiana. Alle 19 attenzione, facciamo attenzione perché c'è un importante appuntamento, sappiamo la Fed sui tassi di interesse e mezz'ora più tardi avremo anche la conferenza stampa di Powell. Quindi molto probabilmente ci saranno altre indicazioni da parte soprattutto di Powell in merito ai prossimi accordi di politica commerciale che appunto dovrà mettere in campo la banca centrale canadese, quindi di politica appunto di politica monetaria. Poi alle 22.45 dalla Nuova Zelanda il PIL del quarto trimestre. Bene, andiamo avanti, andiamo un po' a giovedì 21, un calendario macroeconomico con diverse indicazioni, alle 2.30 doppio appuntamento dall'Australia, variazione del livello di occupazione di febbraio, tasso di disoccupazione di febbraio, poi alle 9.30 abbiamo questa volta ad esprimere proprio interesse sui tassi appunto, sui tassi sarà appunto la banca centrale svizzera. Poi mezz'ora più tardi, ovvero alle ore 10, abbiamo la conferenza stampa. Alle 10.30 invece le venite al dettaglio di febbraio e poi, attenzione, quindi avremo un secondo appuntamento di una banca centrale nello stesso giorno, questa volta ci sarà la BOE alla Gran Bretagna alle ore 13 con la decisione sui tassi di interesse. Poi alle 13.30 abbiamo le richieste iniziali dei sussidi di soccupazione negli Stati Uniti e poi l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. Bene, passiamo a venerdì, ultima giornata, il 21 marzo, 9.30, indice dei direttori di acquisti e settore manufatturiero della Germania di marzo, alle ore 11 l'indice PMI manufatturiero di marzo, alle 13.30 invece dal Canada l'indice dei principali prezzi alla produzione di febbraio e le vendite generali al dettaglio del Canada di gennaio. Alle 14.45 invece abbiamo l'indice dei direttori di acquisto del settore manufatturiero di marzo e poi dagli Stati Uniti chiude la settimana le vendite di abitazioni esistenti di febbraio. Bene, questo è appunto il calendario macroeconomico, adesso diciamo con le notizie più importanti. Adesso andiamo a vedere la seconda parte della videoanalisi del fine settimana andando a guardare in particolare i nostri pannelli di controllo, partendo appunto dal best and worst, in questo caso abbiamo, vedete al momento la migliore performance, ovviamente diciamo anche condotta con questa migliore performance, però condizionata soprattutto dagli eventi Brexit, abbiamo la sterdina che chiude con un attivo di 12,14%, quindi un gap mostruoso rispetto alla seconda valuta che è l'euro che in questo momento chiude a 1,55%, lo yen invece chiude a meno 7,40%, gli Stati Uniti, il dollaro americano a meno 4,88%, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata agli altre valute, le altre valute vedete restano praticamente senza un forte aumento, cioè dal CAD, AUD, FRANCO, New Zealand intorno insomma alla parità, forse elevando il dollaro canadese che chiude a meno 0,80%, stiamo parlando di performance in ottica settimanale, quindi lo yen, vedete continua questa fase, quindi tutte tutte le, tutti i quadrani, tutti gli scenari in cui è presente lo yen, abbiamo una situazione vedete di stampo rialzista, quindi lo yen perde 7,40%, però ovviamente dopo andiamo a analizzare la situazione anche graficamente, quindi lo yen che resta al momento il protagonista assoluto della settimana. bene, questa è la situazione per quanto riguarda i vari, i cross più importanti, le valute più importanti da vedere sotto osservazione. Bene, adesso andiamo a vedere invece il quadrante dove c'è la sterlina, vedete la sterlina abbiamo in questo momento, per quanto riguarda la sterlina abbiamo, vedete, quasi tutti, vedete, tutti gli scenari in cui è presente la sterlina con movimentazioni a rialzo, quindi anche yen, quindi eccolo qua, sterlina, yen che diciamo ha perso il negativo, mentre invece la sterlina che ha avuto delle performance nei vari scenari molto forti, mentre invece per quanto riguarda anche il dollaro americano, vedete, si mantiene abbastanza tonico, ma invece gli altri, come dicevo prima, un po' più di difficoltà. Allora, andiamo a vedere le percentuali, percentuali, qua abbiamo percentuali giornaliere, percentuali settimanali e percentuali mensili di tutta la mia watching list. Allora, al momento la peggiore performance della giornata è stata raggiunta, è stata chiusa della settimana dal dollaro di yen, meno 0,19, mentre della settimana euro sterlina, meno 1,34, quindi è del mese euro New Zealand, meno 0,99%, mentre invece vedete il CAC, l'indice francese, in mensile stiamo a 3,33%, il settimanale invece è ancora il Nasdaq che continua a spingere forte sull'acceleratore al rialzo, rompendo varie resistenze, sia in ottica quindi resistenze in 3D, resistenze quindi annuali e poi abbiamo venerdì, abbiamo ieri c'è stato il franco che chiude a più 1,34%. A seguire, quindi abbiamo tutti gli indici, gli indici che praticamente se andiamo ad analizzare, gli indici sia in ottica giornaliera sia in ottica settimanale sono tutti quasi posizionati, d'altronde anche vedete questo qui e questo, sono tutti quanti posizionati a rialzo, quindi al momento la view per quanto riguarda gli indici sono tutti ri-artisti. Bene, andiamo invece a guardare, tranne per il Dow Jones, eccolo qua, il Dow Jones meno 0,26%, fa una storia a sé, quindi il mese chiude al momento, le prime due settimane a meno 0,26%, mentre invece vedete abbiamo la settimana per quanto riguarda il Dow Jones più 1,59% e 0,56% della giornata. US crude ieri perde un po' di terreno, 0,14%, dopo che però praticamente in ottica mensile ha performato un 2,16%, eccolo qua, in ottica settimanale invece vedete stiamo a 4,08%, quindi ecco soprattutto perché quindi per diverse indicazioni macroeconomiche che sono molto US crude, l'oil molto condizionato. Per quanto riguarda invece la situazione legata all'oro, l'altra commodities che noi analizziamo durante il corso della settimana, il mese chiude ancora al momento, le prime due settimane a meno 0,85%, c'è una leggera correzione a rialzo, cioè siamo all'interno di un trend ribassista, però la settimana chiude in correzione a più 0,16% ed la giornata a più 0,46%. C'è stato un movimento rialzista che poi però durante gli ultimi scampo della settimana giornata inizia di nuovo a performare al ribasso. Bene, queste appunto sono le percentuali che poi per chi già ha a disposizione la MQL Suite, ha a disposizione il pannello di controllo che permette appunto di poter visualizzare la situazione in ottica settimanale, quindi è anche giornaliera. Bene, continuiamo, quindi andiamo a vedere l'altro, il secondo pannello di controllo, quindi passiamo alla Net Change, eccolo qua. Net Change praticamente abbiamo come confluenze, abbiamo una sterlina, il cable, confluenza ancora rialzista, quindi movimentazione ancora forte a rialzo, dollaro della Nuova Zelanda, come tra le major ancora confluenza rialzista, poi per quanto riguarda i cross abbiamo euro sterlina che continua ad andare giù, confluenza sterlina yen, d'altronde tutte le coppie in cui abbiamo visto la sterlina questa settimana ha chiuso a più 12,14%, euro franco positivo, New Zealand yen positivo e poi abbiamo il comparto degli indici, vedete praticamente, comparto degli indici abbiamo questa situazione quindi praticamente abbiamo situazione che al momento, vedete, è tutta prettamente diciamo a rialzo quindi, e poi abbiamo anche l'US30 che forse è l'unico che ha un unico vuoto rosso, poi le altre sono tutte in trend positivo, movimento resta positivo. Bene, questo diciamo è il Net Change, vedete come si sta movimentando, allora, detto questo andiamo, passiamo alla EMA Dashboard, quindi prendiamo l'ultimo pannello di controllo che utilizziamo appunto per poter verificare le condizioni più importanti, per poter appunto restringere ancora di più affinare i vari ingressi al mercato che utilizziamo e abbiamo in questo momento abbiamo l'euro dollaro che ha una movimentazione, vedete, ancora in fase sembra rialzista, sembra che vuole continuare a rialzo, dopo lo andiamo a vedere graficamente stellina dollaro, vedete, tutto confluenza al rialzo, anche euro stellini invece confluenza al ribasso. Per quanto riguarda invece gli indici, gli altri, le altre major, vedete, non abbiamo una direzione ben precisa, stellina yen, confluenza tutta rialzista, poi abbiamo praticamente, abbiamo stellina dollaro australiano, vedete, rialzista, stellina dollaro della Nuova Zelanda rialzista, e poi abbiamo, vedete, tutto il comparto, come abbiamo visto prima, il comparto degli indici tutto rialzista, quindi confluenza e tutte quante rialzista. Per quanto riguarda invece US crude e oro, US crude si leggono le prime indicazioni negative, anche se al momento siamo all'interno di una zona ancora di distribuzione, e l'oro che inizia un po' ad, c'è una correzione come l'abbiamo vista prima, poi vedremo anche graficamente la situazione in modo da capire bene a che punto si trova in questo momento il movimento ribassista. Bene, detto questo, passiamo all'analisi dei grafici, partendo appunto dall'euro dollaro. L'euro dollaro, vedete, come abbiamo visto prima, ci spostiamo sul settimanale, abbiamo una settimana che dopo quella della prima settimana, insomma nel mese di marzo, quest'ultima settimana rispetto alla precedente si chiude in positivo, quindi riesce a guadagnare buona parte, i compratori riescono quindi a guadagnare un quasi, a recuperare quasi del tutto di circa 100 punti, il movimento ribassista che ha condizionato, vedete, quasi 50% 200 punti la scorsa settimana. Se andiamo a vedere, però, siamo in una zona di, diciamo, una zona fretta, una zona di congestione in questa zona qua, zona di, in cui, vedete, al momento non c'è un grosso, diciamo, in ottica di lungo termine, c'è un saliscendi. Il prezzo si è appoggiato sopra 1,12 e 15, livello annuale, al di sotto abbiamo una zona di supply, dove c'è stata questa ripartenza, poi abbiamo il gap, votazione di macron, che è ancora aperto, vedete, quindi l'ho segnato in verde, e è molto importante avere da guardare. Poi, al di sotto il gap abbiamo altre due aree di supply, dovuta a un'altra ripartenza, e poi quest'altra area. Beh, qui fondamentalmente ci diamo a centro di una zona. Se andiamo a guardare, stringendo un po' anche il grafico, vedete, siamo al centro di questo movimento, che se andiamo a tracciare Fibonacci, in questo momento, guardate un po' dove ci troviamo, 61,8. Il test è andato, il prezzo praticamente, il punto di swing, vedete, fatto, qua non si vede bene, però adesso abbasso un po' la freccia per me, eccola qua, punto di swing, vedete, vediamo un po' se, eccola qua. Il punto di swing si è praticamente appoggiato su 61,8. Se andiamo a vedere il minimo della settimana scorsa, il minimo è 1,11,752, low. Quindi, con un close, che, praticamente, low 1,11,752, scusatemi, e il 61,8 è 1,11,782, quindi quasi una chiusura chirurgica. Quindi, punto di swing, quindi da qua potrebbe partire, vediamo un po' se, no, il rettangolo non c'è, però da qua potrebbe partire una movimentazione al rialzo. Vedete? Quindi, 1,11,782, con possibilità di salita al rialzo. Quindi, questo è molto importante, da, un attimo, da tenere sotto osservazione. Quindi, facciamo di un altro colore. Eccolo qua, vedete? Quindi, qua, questo 61,8. Eccolo qua. Che sarebbe questo 1,11,782. Quindi, c'è già una, un primo, una prima partenza. Ovviamente, dovremmo attendere che il prezzo vada ad movimentarsi a di sopra questa zona, per opportunità long. Sul giornaliero, qua si vede bene il movimento, vedete? Quindi, qua siamo a 1,12,15, che abbiamo visto prima. Quindi, vedete? Al momento, sembra che al 61,8, qua, questo movimento di, vedete? Qua è il punto di swing, che abbiamo visto prima, visto sul giornaliero, il minimo del 2019. E qua è partito il primo impulso. Ora, siamo su 61,8 di questo calcolato da qui a qui. Però, dove io ho tracciato la freccia? Praticamente, qua è l'ultimo, l'ultima zona. Vedete? Qua divide i movimenti dei bassisti dall'improbabili fase rialzista. Quindi, qua, 61,8 si è fermato. Potremmo, a questo punto, andare, quindi 61,8 si è fermato. A questo punto, possiamo andare a calcolare, un attimo solo che... vado a spostare, eccoci qua. Vedete? 61,8 lo mettiamo qui. E vado a prendere anche un altro livello, un altro... quindi questo è 61,8, eccolo qua. E poi vado a prendere... fondamentalmente vado a prendere una zona che potrebbe essere molto interessante, tenere sotto osservazione, è proprio questo. Il 1,12,575, 1,12,372, in quanto questa qua, vedete, è un'altra zona, come è stata fatta in passato, che il prezzo si è fermato. Quindi da qua il prezzo potrebbe fare una correzione, se la va a fare, quindi conferma quello che ho detto io, cioè conferma questo, prima, questo nuovo partenza rialzo, questo nuovo trend rialzista. Bene, staremo a vedere la prossima settimana che cosa succede. Poi, andiamo su dollaro yen. Dollaro yen, su settimanali, diciamo, siamo ancora all'interno in questa zona triangolare, ma addirittura abbiamo le ultime tre settimane caratterizzate da tre candele sovrapposte, quindi fondamentalmente stiamo in piena zona di congestione. Quindi al momento mi lascio... lascio il... lascio al momento verificare che cosa succede nelle prossime settimane, quindi non è un... non è un... praticamente uno scenario molto bello da guardare, vedete, zona di congestione, questo si vede, e poi siamo all'interno di questo triangolo. questo si vede anche dalla... da questa zona, vedete, quindi al momento aspetto altre informazioni, quindi congestione in ultime tre settimane, aspetto altre informazioni. Sterlina dollaro, cable. Allora, il cable praticamente... vedete anche qua... sul settimanale è... è abbastanza... diciamo, vedete, metto... abbiamo un altro punto di swing, e il prezzo dopo che si è appoggiato su questa trendline è partito, però vedete, non ha rotto questo... ehm... zona... questo minimo, l'ultimo e penultimo minimo relativo, ci sono tre false rotture al rialzo, ehm... ovviamente le ultime candele settimanali sono, diciamo, condizionate dagli... dagli eventi Brexit, quindi in questo momento diciamo che aspetto anche qua altre informazioni a causa della Brexit, quindi al momento, vedete, aspetto, ehm... quindi altre info, ehm... per la Brexit, anche perché poi c'è un altro... ehm... c'è un altro... ehm... c'è un altro voto questa settimana. Ehm... ovviamente in ottica giornaliera, vedete, ci manteniamo, il prezzo si mantiene sopra 1,32. Ci potrebbe rostare delle possibilità SELL in caso di breakout sotto 1,320. Quindi, diciamo... però, ripeto, è una situazione abbastanza aleatoria, come si sta, ehm... avendo sulla... ehm... in questo contesto. Quindi, vedete... qui, fondamentalmente, non è che, hm... la situazione è abbastanza... bella da vedere, fondamentalmente. Quindi, aspettiamo ancora, ehm... altri movimenti interessanti. Vedete, qua, ehm... abbiamo questa trend line che si è appoggiato, il prezzo si è appoggiato solo. Ovviamente, certo che sotto 1,32 si va a SER, però, se resta così e va a rompere questi massimi, si va a BUY, ehm... quindi... Aspettiamo altre indicazioni da parte del mercato. Bene. Passiamo a, ehm... Sterlina Franco. Ehm... allora, ehm... la Sterlina Franco, fondamentalmente, se andiamo a vedere, si trova in una zona interessante, che già... l'abbiamo, diciamo, analizzato un po' questa settimana, siamo entrati sell a mercato, abbiamo preso un po' di profitto, siamo in una zona che, ehm... più volte è stata testata, vedete, in ottica settimanale, però, la situazione, anche qua, se mi sposto sul settimanale per vedere, però, potrebbe continuare. Vedete, qui, in ottica settimanale, dopo aver raggiunto il test a 1,01,277, potrebbe continuare ad andare giù. Quindi, ehm... Qui ci potrebbe stare altro sell, quindi, al di sotto, al breakout, al breakout, ehm... del supporto, a, ehm... 0,99,913. Quindi, questo è la, ehm... questa è la situazione. Quindi, al momento, vedete, non... non abbiamo, ehm... potrebbe, in questa zona, però, potrebbe anche iniziare una piccola correzione, per poi dopo andare verso il basso. Quindi, aspettiamo quello che ci offre i primi movimenti della settimana, per poi decidere sul da farsi. Passiamo, invece, ad, ehm... AUDUSD. Allora, AUDUSD, ehm... sembra che, ehm... dopo che si è appoggiato, vedete, sul settimanale, passiamo prima al settimanale, ehm... punto di swing, da primario, ehm... nella settimana del trentanove... l'ultima settimana del 2018, il prezzo si è spinto al di sopra, poi ha corretto, si è appoggiato su 0,70159, ed, che dire, al momento la situazione potrebbe continuare ad andare long, si è mantiene questo 0,70159, poi, ehm... il movimento realzista è coadiuato anche da questa bullish a butterfly, quindi, in ottica, ehm... in ottica daily, quindi abbiamo ancora questa bullish a butterfly, quindi... questa situazione potrebbe essere interessante da seguire nelle prossime, nelle prossime ore. Mentre, invece, andiamo nelle prossime giornate. Passiamo a USDCAD, beh, su USDCAD, vedete, ehm... abbiamo, sul settimanale, abbiamo un... siamo ancora all'interno di questo canale, hm... canale realzista. Quindi, su Wakely, siamo su un canale, ehm... realzista, vedete che il prezzo ha toccato questo, ehm... falsa rottura in 1.33.261, però, si trova tra 1.33.261 e 1.34.548, ovviamente tra due, quindi al centro di questo movimento. Passiamo... andiamo sul giornaliero, e sul giornaliero, vedete, invece, abbiamo questa bearish max butterfly, in ottica daily, quindi bearish max butterfly, che, quindi, mh... seguendo le indicazioni del pattern armonico, vedete, però, c'è stato questo primo movimento, dove abbiamo preso profitto, poi dopo, ehm... si è appoggiato su 1.33.261, che vediamo proprio qui. Qui, ehm... fondamentalmente, se mantiene questa zona, ehm... c'è un test, però, ehm... il test, quindi, ehm... di, ehm... 1.33.261, ehm... 1.33.261, ehm... 1.33.261, potrebbe portare qualche movimentazione al rialzo. Al di sotto, quindi, in caso di breakout di questo 1.33.261, la view potrebbe continuare ad andare verso il basso. Quindi, abbiamo questo 1.33.261, quindi, questa è la situazione. Eh... bene, passiamo al, ehm... New Zealand dollaro. Bene, New Zealand dollaro settimanale, purtroppo, siamo ancora all'interno di questa zona di congestione, quindi, siamo, sul settimanale, in un triangolo di congestione. Vedete, quindi, un triangolo che, fondamentalmente, non mi dà delle grosse indicazioni. Quindi, ehm... passiamo al giornalino, per capire bene, però, vedete, anche qua, la situazione non è che sia molto bella da guardare. Siamo tutti in una zona di, ehm... di congestione, quindi, anche il daily è congestione, quindi, non aspettiamo, hm? Aspettiamo momenti migliori. Quindi, fondamentalmente, questo fine settimana, togliendo, forse, il migliore, lo scenario migliore, è proprio un possibile buy su euro-dollaro. Eh... bene, passiamo... Ad, ehm... euro-sterlina. Vediamo un po', se, su euro-sterlina c'è qualcosa di interessante. Vedete, praticamente, il prezzo è da fare, un altro punto di swing, più in basso. Però, aspettiamo, euro-sterlina, abbiamo tutte le varie coppie in cui è presente, vedete, il... la sterlina, quindi, sono soggette molto condizionate agli eventi Brexit. Quindi, anche qua, vedete, candele sovrapposto, quindi, fondamentalmente, non c'è un grosso da fare. Quindi, ehm... abbiamo... questa è la situazione, insomma, vedete, non... non c'è tanto da dire. Però, è certo che il movimento potrebbe continuare ad andare giù, quindi, sotto 0.85, 0.74, vedete, come si è appoggiato, potrebbe continuare ad andare giù. Quindi, qua abbiamo... eccolo qua. Quindi, abbiamo un punto di swing, ehm... però, ovviamente, non è tanto interessante. Andiamo a vedere, invece, euro-yen. Allora, euro-yen, migliore... migliore scenario della settimana, qua abbiamo preso un bel po' di profitto. Ehm... anzi, dopo andiamo a vedere anche il... lo score di... ehm... del... qua, 61,850, appoggio sul 124,610. Quindi, la situazione potrebbe... vedete, in questo momento, si è appoggiato a 126,478. Quindi, qua abbiamo preso profitto, lo vediamo bene sul giornaliero. Sul giornaliero, quindi, vedete, il 61,8... allora, ripeto, settimanale. Eh... qua abbiamo, ehm... sul settimanale di euro-yen, abbiamo ancora questo pattern armonico. Poi, sul giornaliero, avevamo... abbiamo, ehm... sul... ehm... stavo dicendo... sul... ehm... sul giornaliero abbiamo... Allora, abbiamo questo... abbiamo il... ehm... una Bullish Max Guthrie, in ottima settimanale. Bullish Max Guthrie, ok? Quindi, questo è un pattern armonico che già ci ha dato le sue prime indicazioni. Poi, che cosa è successo? Poni di swing, primo impulso, correzione, dove? A 124,610, che poi rappresenta il 50,68. Quindi, ci spostiamo sul giornaliero, andiamo a portare lo stesso fase, ehm... di... lo stesso... ehm... Fibonacci, lo stesso... sullo stesso punto, però, che abbiamo visto sul settimanale, però, in ottica anche settimanale, per vedere proprio i movimenti più precisi. E guardate la correzione che cosa mi ha dato, proprio venerdì. Una pin, farsa rottura, 50,68. Qua sono entrato al mercato, primo target, 70 punti, secondo target, quindi su... adesso, vedete, sta correggendo. Ora, a questo punto, ehm... Se, ehm... ovviamente, qui abbiamo questa pin, farsa rottura, quindi, dobbiamo vedere, su, ehm... la prossima settimana, e la prossima giornata, che cosa succede a 126,478. Cioè, sul daily, quindi, abbiamo, ehm... Due, farsa rottura, al rialzo, a 126,478. Un caso di breakout, potrebbe essere interessante per un buy. Quindi, vediamo, vediamo, vediamo un po' quello che succede la prossima settimana. Anche se, sinceramente, c'è questa pin che mi richiama qualche movimentazione a ribasso. Vediamo, vediamo un po'. Andiamo a vedere anche, da qui a qui, vedete, si è fermato letteralmente, vedete, su 61,8. Quindi, ci potrebbe stare un movimento e poi una risalita. Vediamo un po' quello che... Però, ovviamente, sopra 126,478 si aprirà un altro spiraglio a rialzo. Stellina Yen, idem, la stessa cosa, vedete. Abbiamo qua, su Stellina Yen, abbiamo, in ottica settimanale... Andiamo a vedere un po', abbiamo questo, vedete, il test di 148,040. Quindi, su Stellina Yen, test, resistenza, di 148,040. Un breakout, sopra, si va a buy. Ok, vediamo un po' quello che succede nel corso della settimana. Dobbiamo vedere la forza della Stellina. Sul giornaliero si vede molto bene, però, sul giornaliero, abbiamo, in ottica delle, abbiamo ancora questo pattern armonico, una bearish total. Quindi, lì, abbiamo una bearish total. Con un punto di sguiglio. Andiamo avanti, andiamo a vedere Euro Aud, Euro Aud fase settimanale, vedete, candele sovrapposte, non c'è niente di interessante da guardare. Andiamo avanti, quindi, passiamo avanti, Euro Card. Allora, Euro Card, anche qua, vedete, la situazione, siamo all'interno di una zona dove, in pratica, vedete, una sorta di zona rettangolare, un po' sfalsata. Siamo sello a mercato, sotto 1,50848, attendo un breakout del supporto, 1,50848. Passiamo a UDN, allora, UDN, anche qua, vedete, la situazione, UDN, settimanale, candele uno sopra l'altro, quindi, al momento, il settimanale è congestione. Vediamo un giornaliero, se ci offre qualcosa di interessante, ma, al momento, no, vedete, sempre congestione. Quindi, gli scenari sono un po' convulsi. Passiamo ad Euro Franco, Euro Franco, movimento, che potrebbe continuare ad andare giù, su Euro Franco, però, in questo momento, si è messo su 1,13. Quindi, anche qua, abbiamo una sorta di congestione settimanale. Vedete? Quindi, non è che c'è un gran bel da dire, su Euro Franco, qua, la stessa cosa, quindi, diciamo che... Non c'è tanto da dire. La stessa situazione è sul giornaliero, vedete, quindi, anche giornaliero è settimanale di congestione. Passiamo ad OutGuard. Allora, OutGuard, sul settimanale, abbiamo un sell, siamo sell al mercato, perché il prezzo, vedete, è andato a riprendersi questa zona, però, sembra che, anche qua, la situazione è un po', bisogna andare a verificare i movimenti della prossima settimana. Quindi, aspettiamo, andiamo a vedere, sul giornaliero, abbiamo sempre questa bullish, Max Gattler, che però, vedete, è un po' particolare. Poi, dopo, passiamo a New Zealand Yen. Allora, New Zealand Yen, in ottica, eh, settimanale, andiamo a vedere un po', ottica settimanale, abbiamo questo punto di swing, che stiamo in salita, siamo sell al mercato, su New Zealand Yen, perché il prezzo qua, eh, diciamo, ha trovato un po' di difficoltà, può essere un altro po'. Eccolo qua, vedete, quindi, eh, continuo, quindi, confermo questo sell, eh, in ottica giornaliera, eh, sul daily, siamo in una zona, test, zona, eh, zona supply. Quindi, eccolo qua, con una pin, più pin ribassista. Su H4, interessante, è, abbiamo questo movimento armonico, vedete, è ancora, eh, in essere, quindi, aspettiamo, che, eccolo qua, vedete, ecco, questa è la zona, quindi, eccoci. Poi, andiamo a vedere, invece, esternina dollaro, australiano, quindi, un'altra situazione, eh, che qua, allora, andiamo a vedere il settimanale, settimanale, vedete, il prezzo, si è portato di poco, sopra, allargo un po' più il grafico, abbiamo un altro punto di swing, allora, swing, eccolo qui, quindi settimanale. Allora, sul weekly, abbiamo, uno swing, low, con la freccia, qui, è importante, da qua, potrebbe partire una movimentazione long, vedete, eh, quindi, movimentazione ribassista. Anche sul giornaliero, idem, la stessa cosa, vedete, qui, quindi, questo qua, quindi abbiamo lo swing, low, ribassista, qua, si può, attendo, conferma, per, un sell. C'è la possibilità di un sell, perché stiamo anche su massimi, questo, è uno scenario, che, potrebbe essere interessante, da poter, eh, valutare, nei prossimi giorni, hm. Ovviamente sotto, 1,87, 255. Breakout, gioco, 1,87, 255. Poi, andiamo su, stellina dollaro della Nuova Zelanda, stellina dollaro della Nuova Zelanda, settimanale, ci siamo, vedete, sul, eh, settimanale, siamo, eh, qui, abbiamo un attimo, 1,92, 962, me lo vado a segnare. 92, eccoci qua, quindi, vedete, abbiamo, il settimanale, abbiamo, uno, swing, rosso ribassista, quindi, secondario, test, più, test, 50, 61,8. Quindi, qua, potrebbe partire, quindi, sul giornaliero, vedete, sul giornaliero, abbiamo, una Berish Max Gartley. Con, quindi, qua, ovviamente, qua, è un po', coincidata la cosa, però, sotto questa zona, possibile sell. Però, il migliore scenario, potrebbe essere, stellina dollaro australiano, vedete, quindi, tra i due, andiamo a preferire, preferisco, stellina dollaro australiano. Qua, invece, è un po' più, coincidata la cosa. Andiamo, su Euro New Zealand, l'ultimo scenario, per quanto riguarda le valute. Quindi, settimanale, qua, potrebbe partire un movimento, quindi, abbiamo, brecca, falsa rottura PIN, della settimana, quindi, abbiamo, falsa, rottura, della resistenza, a 1,65, 593. Quindi, ancora sell. Settimanale, questo, vedete, quindi, si mantiene qua sotto. Quindi, ancora sell, ci potrebbe stare, qualche altra operazione sell. Bene, poi, andiamo a vedere le major, le commodity, partendo da loro. Loro, siamo sempre sell a mercato, su un'ottima giornaliera. Vedete, abbiamo questa movimentazione, questo punto di swing, preciso. Vedete, praticamente, una zona dove, qui, il prezzo è andato a ritestare. PIN, movimento, qua, ho fatto partire i miei sell, qua, ho un pattern armonico, quindi, siamo ancora, vedete, qua, perfetto l'ingresso a mercato. E, qui, l'ingresso abbiamo, dopo aver preso diverso profitto, qua, di circa oltre 1.000 punti, in questo momento, tra le due operazioni di lungo termine, erano 4 lungo termine, 2 già sono state chiuse. Restano a mercato, questa di circa, no, questa di lungo termine, 770 punti, un'altra di 1.300 punti, e poi, ho un'altra operazione, in questo momento, siamo sul prezzo di ingresso a mercato, che ho posizionato qua, con un target sopra 1.287,256. Qua si vede bene il movimento, vedete, quindi, tutti i vari movimenti, da qua è partito il movimento forte, vedete, correzione, e poi, adesso, vedete, come sta, qua, fatto, se andiamo a vedere, dove si è appoggiato, eccolo qua, test 61.850, con possibile continuazione di discesa a ribasso. Andiamo al US crude, allora, US crude, al momento, la situazione sul settimanale, vedete, è ancora, qua abbiamo un punto di swing, eccolo qua, potrebbe partire una movimentazione a ribasso, però, questa settimana è stata longa, appunto, per alcune indicazioni, arrivo dal, dai paesi produttori dell'OPEC, qui, eccolo qua, ha rotto questa zona, quindi, aspettiamo, la prossima settimana, vedete, che cosa succede, però, al momento, siamo in zona, rialzista, fondamentalmente, in questo momento, sul, US crude, si, è prettamente, rialzista, confermo, il rialzo. Bene, passiamo agli indici, gli indici, passando dal DAX, allora, DAX, guardiamo solo il giornaliero, in ottica, allora, i DAX, abbiamo sempre questo test e spalla, rialzista, vedete, che continua a spingere, quindi abbiamo un nuovo punto di swing, segnato proprio venerdì, un nuovo massimo, eccolo qua, il massimo del 2019, fondamentalmente, eccolo, e che potrebbe continuare verso su, quindi, aspettiamo, vediamo un po' quello che succede. Poi, andiamo a vedere il UK100, sempre giornaliero, UK100, vedete, qui, il prezzo si è, ha lasciato questa zona, questa trendline, quindi, abbiamo sempre questo punto di swing, dobbiamo vedere, cosa succede, su 7226,30, quindi, aspettiamo, anche qua, la situazione. Poi, andiamo a vedere, i tre indici americani, partendo dal, dal, dall'SP500, allora, SP500, nuovo punto di swing, eccolo qua, vedete, quindi, lo vado, a tracciare, a pochi passi, diciamo, a pochi punti, a di sopra questa zona di supply, che, vedete, ogni volta che è stata testata, è stato sempre il prezzo respinto al ribasso, però, sembra che vuole continuare ad andare lungo, vediamo, però, vedete, ha fatto una falsa rottura, da 2825,10, se andiamo a vedere il prezzo, ha chiuso proprio, guardate un po', a 2825,10, da qua potrebbe partire un sell, sinceramente, però, vediamo, domenica sera, cosa succede. Poi, passiamo al Nasdaq, il Nasdaq si sta avvicinando a una mia zona, un sell limit, 7342,60, vedete, quindi, questo potrebbe andarsi a prendere qua, poi, vediamo, se c'è un rimbalzo, il che potrebbe andare verso giù, quindi, qua potrebbe, veramente, essere la fine del movimento rialzista, però, ovviamente, se lo rompe, il prossimo resistenza è 7512,30. In ultimo, i Dow Jones, dove abbiamo preso molto profitto questa settimana, dopo andiamo a vedere anche lo score giornaliero, diciamo che il giornaliero mi piace di più, è un po' una storia a sé, vedete, qua abbiamo un punto di swing, ok, il prezzo, guardate che ha fatto, 61,8, si è fermato al 61,8, vedete, si è fermato al 61,8, di questo movimento, quindi, segnatevi questo, molto è bello questo movimento, vedete, allarga un po' più il grafico, quindi, 61,8, eccolo qua, ritracciamento, quindi, da qua potrebbe partire, siccome stiamo, vedete, su massimi importanti, l'ultima volta, questo massimo è stato registrato, esattamente il 11 novembre 2018, quindi, potrebbe, potremmo applicare anche le logiche di Elliot, quindi, prima onda, seconda, stiamo all'inizio, la possibile terza onda, che potrebbe far raggiungere il prezzo sotto di 1000 punti, eccolo qua, vedete, quindi, massimo 100, che potrebbe essere, oppure un ABCD, quindi, 61,825853, quindi, la view potrebbe essere, ancora ribassista. Bene, prima di chiudere, ultime due cose, anzi, non meno importanti, andiamo a vedere lo score del trading, del mio diario di trading, del 2019, contesto valutario, stiamo a 1.608 punti, una settimana, un po' di trambusto, quindi, per quanto riguarda il valutare, però, diciamo, in ottica più veloce, intraday, per quanto riguarda gli indici, stiamo a 992 punti, ottimo risultato, devi vedere la verità, unico pending, abbiamo visto prima, è in Nasdaq, unico pending è in Nasdaq, a 7.340, quindi, una situazione interessante da poter seguire. Quindi, ripeto, per quanto riguarda gli indici, quindi, gli scenari migliori sono Nasdaq, quindi, gli scenari migliori abbiamo detto, il Nasdaq e US30, quindi abbiamo, ripeto, ritornando indietro, quindi, così fate anche, allora, in Nasdaq, cioè USTEC, siamo quasi al test della resistenza a 7.342,60, mentre, invece, da un Jones o US30, eccolo qua, test 61.8, cioè uguale a 25.853, quindi, vediamo se risponde questo 25.853. Per finire, per chiudere, quindi, non mi voglio, allora, se volete potete, quindi, iscrivervi alla nostra, al nostro, al nostro portale, delle tre di tale, quindi potete anche, eccoci qua, quindi potete chiedere, potete iscrivervi, quindi, in analisi andate, diretta live, quindi potete, ripeto, abbiamo anche la diretta live dei mercati, da lunedì al venerdì, tenuta da me, dalle 8.30 alle 9.30, dalle 15 alle 15.30, nome, cognome, mail, telefono, qua potete inviare, il format, per poter iscrivervi alla diretta live, oppure, la chat telegram, dove potete ricevere i vari segnali di trading, su, professionisti, analisti indipendenti, quindi noi, abbiamo anche qua, un, un nome e cognome, mail, quindi, anche qua, potete usufruire di questi, eh, due servizi interessanti. Bene, nel frattempo vi auguro un buon fine settimana, grazie mille a tutti, grazie alla vostra attenzione, ci aggiungiamo, quindi, eh, spero anche per molti nuovi, quindi, già siamo un bel po' di noi, eh, di aggiungervi a altre persone, quindi, eh, vi aspetto lunedì, alle ore 8.30, per la prima diretta live della settimana. Buon, di nuovo, buon fine settimana a tutti.